sono ore di ansia per una signora anziana scomparsa da ciglia secondo quelle che sono le prime indiscrezioni la donna è uscita di casa intorno alle 2 di notte e da quel momento in poi non è più tornata al momento della scomparsa michela questo il nome dell'anziana indossava un pigiama rose le pantofole a 78 anni ed è affetta da demenza senile